Il giornale radio di Vivi Centro Network Il giornale di Vivi Centro Network Il giornale di Vivi Centro Network Il reggimento corazzieri che custone il secondo Onori al Presidente della Repubblica Signor Presidente, oggi viene solennemente riconosciuto Il prezioso e inestimabile ruolo di quegli uomini e donne Loro carica ed emblema dell'unità dello Stato L'istituzione e cittadinanza E a sottolineare il messaggio di quella Vuole considerare quel grande sforzo Confuso da ogni singola realtà territoriale Nel corso di quel conflitto Che può essere considerato come la prima, vera e grande esperienza Della professionalità, dello spirito di sacrificio e dell'umanità Che costantemente contattiva Siamo passati in un'amica Siamo salendo il primo copiona Innergia di Vivi Centro Network Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.